Sri Ramana Ashram Quando i devoti seguirono Sri Bhagavan alla tomba della madre, ai piedi della montagna, nel dicembre 1922, come Ashram c'era soltanto una capanna con il tetto di paglia. Negli anni successivi il numero delle costruzioni crebbe, arrivarono donazioni e furono costruiti gli edifici di un Ashram regolare, la sala dove sedeva Sri Bhagavan, l'ufficio e la libreria, la cucina e il refettorio, la stalla, l'ufficio postale, il dispensario, la foresteria per gli uomini, in realtà un grande dormitorio per coloro che desideravano fermarsi alcuni giorni all'Ashram. Un paio di piccoli bungalow per gli ospiti che si fermavano più a lungo. Tutte costruzioni ad un piano imbiancate esternamente, alla maniera indiana. A ovest dell'Ashram c'è subito una grande vasca quadrata, con gradinate di pietra che portano all'acqua da tutti e quattro i lati. A sud dell'Ashram c'è la strada che da Tiruvannamalai porta a Bangalore, a sinistra e a destra. Più a ovest la strada si divide e curva bruscamente per girare intorno alla montagna. Stando sulla strada, guardando verso nord, oltre ad una piccola condotta d'acqua si vede un arco di legno dipinto in nero con il nome Sri Ramana Shramam, scritto in lettere dorate. Nota! Le forme Ashram e Ashramam sono entrambe corrette e corrispondono la prima al sanscrito e l'altra al tamila. Nessun cancello, solo un'entrata aperta. Le fronde delle palme di cocco riparano gli edifici dell'Ashram e al di là si erge maestosa e imponente la montagna. Non fu costruito soltanto l'Ashram. D'altra parte della strada, il Maharaja di Morbi fece costruire un ostello per i Raja in visita. Sorse una zona di casette e di bungalow costruita dai devoti capi famiglia. Subito a ovest dell'Ashram, tra la vasca e la montagna, i Sadhu crearono una zona pelacotto, dove vivevano in grotte o in capanne in mezzo agli alberi. Nell'Ashram vero e proprio vivevano coloro che erano portati più all'azione che alla meditazione, prestando il loro servizio nell'ufficio, nel giardino, nella libreria, nella cucina, in un reparto o nell'altro, ritenendosi benedetti di poter stare vicino a Sri Bhagavan, di vederlo passare e forse ogni tanto di essere notati e sentirsi rivolgere la parola da lui. Tutto questo costruire, progettare e maneggiare denaro richiedevano un'amministrazione dell'Ashram perché Sri Bhagavan non avrebbe fatto nessuna di queste cose. Perciò suo fratello, Niranjananandaswami, divenne il Sarvadikari, o rettore dell'Ashram. Furono stabilite delle regole per governare la vita dell'Ashram. Certe erano fastidiose per i devoti. Se però alcuni si sentirono inclini a protestare o a ribellarsi, l'attitudine di Sri Bhagavan li frenò perché gli sottostava ogni regola e appoggiava l'autorità, non tanto forse nei casi particolari in questione, quanto per il motivo generale che bisogna obbedire agli ordini. In questo c'era un significato, come in tutto ciò che faceva. Egli consigliava una via che deve essere seguita non nell'isolamento, ma nelle condizioni del mondo, in questo Kali-Yuga. Quest'era spiritualmente oscura, e se esortava i suoi seguaci a ricordare il Sé mentre si trovavano in condizioni che potevano non essere congeniali, dava l'esempio lui stesso, conformandosi a tutte le regole dell'ashram. Inoltre, disapprovava la gente che si allontanava dallo scopo per il quale l'aveva avvicinato, per impegnarsi in dispute sull'amministrazione. Diceva, La gente percorre la strada fino all'ashram in cerca della liberazione, e poi rimane intrappolata nella politica dell'ashram, dimenticando per quale motivo è venuta. Se queste cose rappresentavano i loro interessi, non c'era bisogno di venire a Tiruvanamalai. Ogni tanto scoppiavano dei contrasti e c'era del malcontento, ed entrando nel merito di ogni cosa non si può dire che ciò fosse del tutto ingiustificato. Ma Sri Bhagavan non approvava. Una volta, un gruppo di devoti, formato da uomini d'affari e professionisti di madras, venne con un autobus appositamente noleggiato per chiedere la totale rimozione dell'amministrazione dell'ashram e l'istituzione di un nuovo organismo. Si radunarono nella sala e sedettero davanti a Sri Bhagavan. Egli sedeva in silenzio, con il viso duro, lontano, eterno come una roccia. Davanti a lui si sentirono a disagio, si guardarono inquieti, ma nessuno ebbe il coraggio di parlare. Alla fine uscirono dalla sala e tornarono a madras, così come erano venuti. Soltanto allora fu detto a Sri Bhagavan qual era lo scopo della loro visita ed egli disse «Mi chiedo perché vengano qui, per riformare loro stessi o per riformare l'ashram?» Nello stesso tempo, un'altra lezione che doveva essere imparata, se qualche regola appariva non solo fastidiosa, ma ingiusta, non sottostava ad essa, così come non la consentì all'imposizione di un pedaggio quando stava a Birupaksha. Anche in questi casi, raramente il suo metodo era quello di protestare, ma era piuttosto quello di attirare l'attenzione sull'ingiustizia mediante il suo comportamento. Ci fu una volta in cui i pasti erano già stati serviti nel repettorio dell'ashram, ma non era stato possibile provvedere al caffè per tutti, così alle persone meno importanti che mangiavano in fondo alla sala fu data dell'acqua. Sri Bhagavan lo notò, notava sempre tutto, e disse «Date l'acqua anche a me». Da allora iniziò a bere solo acqua e non accettò mai più caffè. Una volta, quando era già avanti negli anni e le sue ginocchia erano rigide e deformi per i reumatismi, arrivò un gruppo di europei. Una signora, che non era abituata a sedere a gambe incrociate, si appoggiò al muro e allungò le gambe. Un assistente, probabilmente non realizzando quanto sia doloroso sedere a gambe incrociate per chi non è abituato, le disse di non sedere in quel modo. La povera signora arrossì per l'imbarazzo e tirò indietro le gambe. Subito, Sri Bhagavan sedette dritto e a gambe incrociate. Nonostante il dolore alle ginocchia, egli continuò a sedere in quel modo e quando i devoti gli chiesero di non farlo, disse «Se questa è la regola, devo obbedire come chiunque altro. Se è irriverente allungare le gambe, io sto mancando di rispetto a tutte le persone presenti in sala». L'assistente era già uscito dalla sala, ma fu richiamato per pregare la signora di sedere come l'era più comodo. Anche in questo caso fu difficile convincere Sri Bhagavan a fare uno strappo alla regola. Nei primi anni ci furono a volte delle critiche. I devoti occidentali in particolare erano inclini ad attacchi missionari. Un fanatico entrò perfino nella sala e incominciò a dire la sua ritorica contro Sri Bhagavan stesso. Sri Bhagavan non rispose, ma dal fondo della sala la voce tuonante del maggior Chadwick lanciò una sfida così sconvolgente alla sua interpretazione del cristianesimo che il poverino rinunciò al tentativo. Anche negli anni successivi continuarono a venire preti cattolici mostrando interesse e reverenza salvo poi esprimere dei dubbi che ti facevano chiedere se i loro cuori fossero aperti o se il loro scopo non fosse semplicemente quello di fare proseliti e travisare. Una volta venne a dibattere un musulmano ma dietro la sua sfida ci deve essere stata della sincerità perché Sri Bhagavan gli rispose con pazienza Dio ha una forma? chiese chi dice che Dio ha una forma? replicò Sri Bhagavan l'interlocutore insistette se Dio è senza forma non è sbagliato attribuirgli la forma di un idolo e adorarlo in esso? aveva capito che la risposta significasse nessuno dice che Dio ha una forma ma essa significava esattamente quel che diceva e allora fu amplificata lasciate stare Dio ditemi prima se voi avete una forma naturalmente ho una forma come potete vedere ma non sono Dio siete dunque il corpo fisico fatto di carne ossa e sangue e vestito elegantemente sì deve essere così sono consapevole della mia esistenza in questa forma corporea vi considerate il corpo perché ora siete consapevole del corpo ma siete quel corpo può essere voi nel sonno profondo quando non siete affatto consapevole della sua esistenza sì devo rimanere nella stessa forma corporea anche durante il sonno profondo perché ne sono consapevole finché non mi addormento e non appena mi sveglio vedo che sono proprio come ero quando sono andato a dormire e quando viene la morte l'interlocutore l'interlocutore si fermò a pensare un minuto allora sono considerato morto e il corpo viene sepolto ma voi dite di essere il vostro corpo perché quando lo portano a seppellire non protesta e dice no no non portatemi via la proprietà che ho acquistato questi abiti che indosso questi figli che ho generato sono tutti miei io devo rimanere con loro allora il visitatore ammise di essersi erroneamente identificato con il corpo e disse io sono la vita nel corpo non il corpo in sé poi Sri Bhagavan gli spiegò finora avete pensato seriamente di essere il corpo e di avere una forma questa è l'ignoranza primordiale che sta alla base di tutti i problemi che sta all'origine di tutti i problemi fino a quando non vi liberate di questa ignoranza fino a quando non conoscete la vostra natura senza forma è mera pedanteria di squisire su Dio se egli abbia una forma o sia senza forma o se sia giusto adorarlo nella forma di un idolo quando in realtà non ha forma fino a quando non si vede il sé senza forma non si può adorare veramente il Dio senza forma a volte le risposte erano concise ed enigmatiche a volte piene ed esplicative ma sempre adattate all'interlocutore e sempre meravigliosamente appropriate una volta arrivò un facchiero nudo che si fermò per circa una settimana sedendo sempre con il braccio destro alzato non entrò personalmente nella sala ma inviò la domanda quale sarà il mio futuro ditegli che il suo futuro sarà com'è il suo presente questa fu la risposta non solo questa biasimava l'interesse per il futuro ma gli ricordava che la sua attività presente sincera o falsa che fosse stava già creando il suo stato futuro un visitatore fece sfoggio di conoscenza enumerando le diverse vie prescritte da vari maestri e citando anche filosofi occidentali chi dice una cosa e chi un'altra concluse chi di voi ha ragione quale via dovrei prendere Sri Bhagavad rimase in silenzio ma il visitatore insistette con la domanda vi prego ditemi quale via dovrei prendere alzandosi per uscire dalla sala Sri Bhagavan gli rispose seccamente quella per la quale siete venuto il visitatore si lamentò con i devoti che la risposta non gli era di alcun aiuto ma questi li fecero notare le sue implicazioni più profonde che la sola via è tornare alla propria sorgente ritornare da dove si è venuti nello stesso tempo era proprio la risposta che meritava Sundaresh a Yara un devoto di cui si è già parlato venne a sapere che doveva essere trasferito in un'altra città e nel suo dolore si lamentò sono stato con Bhagavan per 40 anni e adesso mi vogliono mandare via ma che farò lontano da Bhagavan per quanto tempo siete stato con Bhagavan gli fu chiesto 40 anni allora volgendosi ai devoti Sri Bhagavan disse ecco uno che ha ascoltato il mio insegnamento per 40 anni e ora dice che sta andando da qualche parte lontano da Bhagavan in questo modo egli attirò l'attenzione sulla sua presenza universale comunque il trasferimento fu annullato anno dopo anno la piccola sala rappresentava il centro dei devoti è il punto focale di tutte quelle persone in tutto il mondo che non potevano essere presenti fisicamente a un osservatore superficiale poteva sembrare che vi succedesse poco ma in realtà vi era una formidabile attività nel corso degli anni la routine della vita dell'ashram cambiò un po' inoltre con il progressivo indebolimento della salute fisica di Bhagavan vi furono più regole più restrizioni finché non apparve la debolezza della vecchiaia non vi erano restabilite per avvicinarsi a lui egli era accessibile a tutte le ore giorno e notte anche quando dormiva non faceva chiudere le porte della sala per timore che qualcuno che avesse bisogno di lui potesse essere chiuso fuori spesso rimaneva a parlare con un gruppo di devoti fino a notte fonda alcuni di questi come Sundares Ayar erano capi famiglia che la mattina dovevano andare a lavorare ma dopo una notte trascorsa così con Sri Bhagavan il giorno dopo non sentivano la stanchezza per non aver dormito e il corso della vita quotidiana dell'ashram era contrassegnato da ordine puntualità perché ciò faceva parte di quell'accettazione delle condizioni di vita che Sri Bhagavan esemplificava e raccomandava inoltre tutto era pulito ordinato e perfettamente a posto vivò un periodo in cui era solito alzarsi molto spesso alle 3 o alle 4 del mattino e passare un'ora o due a pulire e tagliare verdure o a fare piatti di foglie prima che nell'ashram si cominciassero a coltivare alberi di banano e ad usarne le foglie come piatti in questo come in tutto i devoti andavano ad aiutare per il piacere di stargli vicino talvolta interveniva anche nel cucinare dava istruzioni perché gli scarti delle verdure non fossero gettati via ma dati al bestiame nulla doveva essere sprecato un giorno però scoprì che malgrado le sue istruzioni gli scarti erano stati gettati via e da allora non partecipò più al lavoro in cucina già nel 1926 aveva rinunciato a fare il giri pradaccina e il giro della montagna le folle stavano diventando così grandi da non poter essere controllate nessuno voleva rimanere nell'ashram quando egli vi andava perché tutti desideravano accompagnarlo inoltre mentre era assente dei visitatori potevano venire per il darshan per la sua presenza e tornarsene delusi perché non l'avevano trovato in più di un'occasione disse che dare il darshan era per così dire il suo compito nella vita e che doveva essere accessibile a tutti coloro che venivano citò questa come una delle ragioni per cui rimaneva ai piedi della montagna invece di tornarsene a skandashram che è meno facilmente raggiungibile non solo rinunciò a fare il pradakshina ma non si assentò più dall'ashram per nessuna ragione salvo per una breve passeggiata al mattino e alla sera anche l'aver rinunciato al lavoro in cucina fu probabilmente dovuto in gran parte al bisogno di essere accessibile a tutti i devoti poiché soltanto i bramini potevano unirsi a lui in quel lavoro quando gli fu chiesto insistentemente di fare un giro dei luoghi sacri dell'india una delle ragioni che adusse per il rifiuto fu che i devoti potevano venire all'ashram e non trovarlo durante la sua ultima malattia insistette sino alla fine affinché tutti coloro che venivano avessero il darshan si potrebbero riempire volumi raccogliendo le esperienze le istruzioni e le spiegazioni che ricevettero i devoti in quegli anni tuttavia lo scopo di questo libro non è quello di offrire un resoconto completo ma piuttosto di dare un'immagine generale della vita e dell'insegnamento di Sri Bhagavan ti ringrazio molto per aver visto e ascoltato questo video sperando che porti consapevolezza e gioia nella tua vita condividi nei commenti la tua esperienza metti mi piace e iscriviti al canale di Doeia per ascoltare altri contenuti simili ci vediamo nel prossimo video